Dagli autori di Candy Crush, ecco Pet Rescue Saga, un nuovo irresistibile rompicapo. Tanti livelli impegnativi per un'avventura davvero spassosa. Ed è facile da imparare. Abbina due o più blocchi colorati, eliminali e libera gli animaletti. Salva i nostri amici animali. Gioca subito a Pet Rescue Saga. Ora disponibile su Facebook, Android, iPhone e iPad.